sempre una sicurezza per morire ovviamente allora io mi prendo le mf che sto usando come ho potuto vedere è anche molto bene ti ho visto ok e io prendo invece prendo una sparaflash allora suono paranormale, crucifisso e purifichiamo con Vincenzo certo magari se mi porto pure la torcia vedo qualcosa e mi piacerebbe che fosse qui al falò così almeno non rompe le scatole in una tenda vedremo beh vado ad accendere no è già acceso oh guarda qua che osso oh brava non stanno in capicesso? no beh se hai già trovato l'osso non sto ad aprire le tende ascolto solo per vedere se è da queste parti dai mettiti ah eccolo eccolo touch stracci tua porca miseria se mi ha urlato nelle orecchie alla faccia del suono paranormale di tutto questo è il demone ti conosci maledetto perché siamo siamo guarda siamo ancora in nel periodo di grazia e noi ci siamo anche a fare però scusami mi ha urlato nelle orecchie il suono paranormale non me lo dà ma dai ma non è giusto ah vabbè riprendiamo un altro suono paranormale che devo fare guarda che attività però è a 4 cioè a me mi ha succhiato tantissima eh sì allora veniva da quella da quella tenda là e quindi è là in fondo mi sa io mi prendo un cicchetto sì sì vai bene mettiamo la telecamera lì a questo punto però no però secondo me veniva da qua eh perché io stavo qua Len quale dove qua eh io l'ho sentito da questa parte ma sì comunque lo metterei qua così ha tirato qualcosa no cioè non che io abbia sentito ha aperto quella tenda gialla no no l'ho aperta io quella ah ok però sta luce qua dà fastidio per vedere se ci sono le sfere e spegni e spegni bisogna spegnere il contatore tutto per spegnere quella perché è allora è lì esattamente dove hai spento la luce quindi questo lo ribalto infatti io qua l'ho visto eh sì e mi è venuto contro e non ho fatto in tempo a c'è da spegnere per forza il contatore se ti va cosa stai lanciando ok ora rientriamo per vedere la sanità e sì mamma mia mamma mia mi sa che c'è anche l'MF5 eh sì devo prendere il cicca no non prendo il cicca sto bene sto bene ok e quale sfere quando le vediamo l'unica palletta che va di traverso eh sì queste vanno tutte giù effettivamente questo si è palesato veramente troppo presto mamma mia secondo me è il demone l'MF a quanto stava hai visto eh no non ho visto eh io posso portare porto la temperatura va cioè anche perché siamo ancora in grazia stiamo giocando a direttante uno così aggressivo cioè è giusto il demone potrebbe essere aspetta che guardo perché ovviamente non nevica più non nevica più ha smesso di nevicare guarda ultravioletto libro spiritico temperatura adesso rinevica no no nevica ancora eh può darsi non so non nevica guarda se mi metto qui non nevica più ma mordi nevica sai di che porti vediamo no qua nevica e qua nevica io vedo la neve dappertutto forse se io mi levo guarda un po' ah vabbè aspetta aspetta no levati guardiamo no nevica nevica di brutto nevica anche troppo a me no cioè questa qua va beh allora ma infatti è un po' troppo fioga no va bene allora metterei il termometro qua qui ok poi il dots qua ok beh lì è un bel post per manifestarsi eh io butto questo qua ok boh andiamo a prendere qualcos'altro prendiamo possiamo prendere il sale sì finché abbiamo ancora sanità prendiamo le impronte e la sparaflescia me la vorrei portare perché se si palesa vero potrebbe essere utile sì adesso entro l'ultima volta senza prendere il cicchetto e mi frega vediamo vediamo quanto mi frega sto disgraziato dici che passa qua a me mi sembra che veniva da qua io stavo qua sì sì mi sembra poi posso anche sbagliare magari veniva da dietro oh mmm ma ti ho lanciato qualcosa sta lanciando qualcosa ma non capisco da dove la temperatura non scende sì ho sentito dove il movimento è qua ancora la nuvoletta la nuvoletta è la torcia torcia male la nuvoletta però non ha portato temperatura lo sento che arriverà e ci sciotterà entrambe andiamo a prendere il libro mi prenderò anche il cicchettino però ce n'è di attività ci ho seguito fino al furgone non vedo niente che si muove eh no neanche io a meno che non si sia spostato ma non dovrebbe farlo allora portiamo il libro? sì portiamo il libro prendo un crocifisso prendo un altro sale come siamo messi con eh oddeo oddeo se fosse il demone prenderei il cicchettino io se fosse il demone ci sciotta ma ma fregato il cicchettino da sotto il naso ma io senta io oggi il cicchettino me lo sono fatto veramente il belis al cioccolato mamma mia io non le dico poi non avevo capito che si doveva sbattere e quindi mi son bevuta una roba di cioccolata densissima alla fine perché non l'ho mai sbattuto e quindi ha capito ma in che senso ah non l'ho mai no capito capito c'è da agitare prima dell'uso ma non si butta così il libro spiritico subito poi io proverai con la con la spirit box sei qui ti hai visto addio mondo come la va eh come la va risposta quanti anni hai quanti anni hai ma non passa sul sale però la temperatura non è scesa quella tenda è aperta normale quale quella lì azzurrina questa si apre sempre ah dove sei quanti anni hai print on the book please eh non scende la temperatura non scrive sul libro via 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 perché ha fatto così ha fatto un verso brutto io ho sentito tipo un canto eh sì tipo un lamento una cosa eh esatto vediamo l'attività eh eh sì c'è attività però l'MF non si muove MF non funziona comunque ma sì però potrebbe essere buggato dobbiamo purificare l'area con l'incenso non abbiamo fatto quello senta facciamo così metto un'altra telecamera e e l'incenso lo porto così tanto la luce c'è più o meno no non è verde non vedo una ceppa però fa niente ciao vado con l'incenso io porto il crucifisso ok vediamo se la zona è questa ok però non è passato sul sale eh no quello è interessante perché potrebbe essere il breath l'imperatura non mi pare che è scesa no e non ho scritto sul libro che stress fantasma mamma mia va che roba è a 6 allora non è il demone però dai eh non sta facendo più niente vediamo l'altra ci avrebbe già asciottato no non dà neanche una prova però ma niente 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 proprio che cavolo cioè non butta niente oppure se l'ha buttato non l'abbiamo visto dove ha buttato no a parte a parte farsi sentire un paio di volte non ha fatto altro proprio ecco come al solito quel deficiente del mimo ah può essere si può essere guarda 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 attività 5 eh però non la vedo sta attività o siamo nel posto sbagliato e sta attivitando da un'altra parte a sto punto mi sa di sì ma che cavolo magari stai in decesso Roma eh proviamo a rifarci un giro con le MF come stiamo a sanità ci fidiamo ah sì dai al massimo morimo eh oh ciao proviamo a fare tutto il giro perché veramente dove cavolo sei a sto punto accenderei le luci ah sì giusto a meno se butta qualcosa magari si vede qua una nucoletta c'è ah la tenda si dica se ha toccato sì sì però la nuvoletta lo vista qua vabbè magari era era semplicemente semfatti lasciamo così vediamo di qua niente ah adesso ha spento è lui lui però non passa sul sale come si chiama charts ah non ho guardato no ho proprio spento la luce ma ho proprio spento la luce adesso what are you doing what are you che? come come come? what are you doing che stai a fa? what are you doing niente? niente zero neanche un movimento sulle mf senta ma mettiamo il breath a questo punto ah ah guarda dove sta dove? nella tenda gialla ha acceso la luce no no l'ho accesa io era già accesa perché l'ho accesa io prima ah adesso è perché adesso ho acceso il il coso il contatore l'unica prova che abbiamo è che non passa sul sale però è veramente molto poco mettiamo il breath dai eh non fa nulla che noioso cioè fa ma quando non ci stiamo noi ma da una parte nevica e dall'altra no eh t'ho detto dipende da dove metti la telecamera guardi qua nevica t'ho detto a me prima dipendeva dall'angolazione in cui stavo e se tu t'allontanavi non nevigava più vabbè allora mettiamo il breath perché veramente non c'è modo di farlo cooperare vado vado adesso ci prenderà no non trovo il pallino come ci prenderà no dico ci prenderà per il culo nel senso che adesso ci farà comparire una sfera di luce oppure era il mimo che si è palesato su l'oni ciao ma per favore stavolta proprio che si è palesato su